Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi abbiamo una schiena nuova che si è stata volontaria e andremo a fare un po' di robine che adesso vi spiegherò e state pronti? Anche la parte in cui faremo tracing sul tatuaggio e se vi piacerà ditemi se vorreste un video dedicato al tracing sui tatuaggi, le mie A6, 7, 6, 6, 6 e niente adesso vi faccio un po' vedere e godete il video, ciao! Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi come davo richiesto un altro video massaggi, questa volta abbiamo una schiena diversa come vedete, anche solo il tatuaggio. Oggi faremo un po' di back scratching, quindi un po' di grattini con le unghie, poi un po' di grattini con le grattaschiena, in questo modo, mi piace molto quando si va verso il collo, anche così. Poi, visto che ci sono già i segni della bronzatura, andremo a mettere un pochino di crema e poi ovviamente andremo a fare un po' di brushing qui in questo tipo ventaglio, super morbido, che secondo me è perfetto. Quindi io direi che possiamo cominciare e cominciamo con un semplice micromassaggio. Anche verso il collo. ti sto tagliando un po' di pedra perché non fa niente. Anch'io, vedete? Anch'io l'altro, vedete. E' un pochino di tracing qui sopra perché è un tatuaggio stupendo e ovviamente andremo potuto ricalcarlo. Non posso non approfittarne. Lo vedrete, ma scritto pantare qui e poi anche delle barballe questo attuando, vedete. Qui. Partiamo con proprio applicando pochissima pressione. Qui. qui. E poi scendiamo. Qui. E poi scendiamo. Mi piace tantissimo anche seguire la corona vertebrale. prendiamo il primo pennello. e partiamo dall'alto. andiamo lentamente. a uno spazio. lentamente. lungo un'alto. Ti vedo i primitini. a uno spazio. andiamo sull'alto. lungo al tatuaggio. 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 non sto applicando tanto pressione. in modo che sia un mezzo massaggio, un mezzo solidichino allassante. lungo al tatuaggio. e ancora li prendiamo nel collo. lungo al tatuaggio. E' un po' di manacolite E' un po' di manacolite Sì e adesso vediamo se ora ne metterò un po' di crema qui sopra guarda ora adesso prendo questa crema che è al latte verde che è un tipo di luce è un odore anche molto bello ed è abbastanza corposo non troppo ma neanche troppo di quello e partiamo con un pochino e poi nel caso ne aggiungiamo tutte le ultime pelle mi comincio a spalmare c'è un amore tondo di più che è un pochino un sottotitolo e dall'altra parte approfitto il fatto che la crema sia un po' picci cosetta per sentire le dita sulla schiena e dall'altra parte la crema sia un po' picci cosetta per sentire le dita la crema sia un po' picci cosetta per sentire le dita la crema sia un po' picci cosetta per sentire le dita la crema sia un po' picci cosetta per sentire le dita la crema sia un po' picci cosetta per sentire le dita con l'attacco con uno dei capelli io sono strafissata con questo punto perché è uno dei punti che mi allassa di più che vuoi? 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 andiamo in giù e poi ancora in mezzo e per l'altra parte questo è letteralmente tipo una taschina oppure secondo me può essere usato anche quando si ha un gesso e si si deve irattare da qualche parola che non possiamo mai ripetere a me faceva un brurito il coso che mi piace e adesso un po' a casa, apriamo un po' di onde e ancora un'altra volta andiamo e adesso per concludere vi faccio il tracing sul tatuaggio e poi la buonanotte adesso andiamo a fare del tracing preciso con questo pezzino che la dai per fare le punte dello smalto le puntine dello smalto ok bello complicato intanto provo a spiegarvi cos'è è una lingua esotica la legge mi dice è una specie di sottolingua del polinesiano tai lantese tai lantese ed è un auguri di buona vita in 1,2,3,4,5 campi diversi come amore lavoro immagino giusto famiglia famiglia è stranissimo provare a capire non so come anche sia composto una parola o una lettera trattata perchè è totalmente diverso rispetto al nostro rovjeto terza ad esempio secondo voi questi qui? non sono di questa riga di questa soprattutto questi qui non è sempre ok ho avuto delle lecce delle lecce delle le 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 andiamo al quarto cosa sembra il cuore? io sono ho avuto ho avuto io devo ho avuto vittà e mi o tutto , e colinto il ultimo questa è una altra e poi ecco qua ok, direi che è giunto l'ora di abbassare le luci e a curarti, a curarti, a curarti una e soni adoro good night good night good night buona notte buona notte buona notte pastigili un bacione te li spero te li spero buona notte Grazie.